Ottimamente, eccoci a Vallelungo. La realizzazione di un servizio come questo imponeva una verità assoluta. Occorreva cioè escludere le più elementari e abusate finzioni sceniche. Le riprese che seguiranno sono state realizzate installando a bordo del mezzo considerato non soltanto la macchina da presa ma anche l'apparecchiatura sonora. Una verità assoluta, si è detto, a tal punto che le voci spesso concitate vi riusciranno talvolta non perfettamente comprensibili. È il prezzo della verità. Per facilitare la partenza è grado di questa prima marcia. Affronto la curva. Ed ora ho messo la marcia superiore. Solo a 200 metri dalla curva sto tirando la marcia. Sono in curva e sto inclinando progressivamente. Solo all'uscita. Il restilineo è lungo 250 metri. Cambio ancora marcia. Inizio la frenata. Ingrano la seconda marcia. E comincio a curvare. Ha mai avuto paura lei? Paura ne ha avute molte. Ma molte. In particolare è vero che ricordi io ai 52 a Berna. È successo che sono entrato su una curva troppo forte. A che velocità è? Sui 160 km circa. Ho perso un po' il controllo. Sono andato dritto invece di curvare.